La fabbrica del domani che ritorni attrattiva per i giovani. È il tema su cui i giovani imprenditori di Confindustria Veneto Est hanno deciso di incentrare la loro prima assemblea generale pubblica, svolta nei giorni scorsi proprio in un'azienda, la Dalben di Sanstino di Livenza. Il tema della fabbrica è un tema un po' ignoto soprattutto alle giovani generazioni e quindi c'è un primo problema che è di narrazione da parte delle imprese, in particolare dell'industria e delle fabbriche, di raccontare come sono perché altrimenti lo stereotipo è che uno va in fabbrica a fare lavoro sporco, ripetitivo, alienante, mentre anche girando questa fabbrica si può vedere che non è proprio così. Chi si affaccia oggi sul mercato del lavoro ha esigenze aspettative differenti rispetto al passato. Non è vero che non danno importanza al lavoro, danno importanza ma in misure inferiori rispetto alle generazioni precedenti perché assieme al lavoro danno importanza ad altri aspetti come la possibilità di conciliare la vita professionale con quella personale, il tempo libero, la cultura, altre dimensioni che sono diventate importanti. Praticamente a livello nazionale ai lavoratori chiedendo ma voi pensate di cambiare lavoro prossimamente quasi uno su due risponde di sì e questo uno su due più del 60% dice che lo fa esattamente per motivi di carattere espressivo cioè la qualità della vita. Sostenibilità ambientale, digitalizzazione ma soprattutto attenzione alla persona nelle aziende che cambiano. I giovani sono al centro, noi dobbiamo essere ad accompagnare queste nuove sfide che loro dovranno intraprendere con la convinzione che però non è solo una fabbrica che cambia ma deve essere un territorio che cambia. L'azienda è un luogo aperto, l'azienda è un luogo di persone e oggi siamo qui per tornare a raccontare quella che insomma per noi è la fabbrica, che è un luogo di comunità, è un luogo dove si creano relazioni, non solo cose, dove si cresce e si cresce insieme attraverso una visione comune. Bisogna guardare alla nuova generazione perché la nuova generazione, e parlo anche dei giovanissimi rispetto a me, hanno veramente tanto, tanto e vogliono dare tanto.